Salve, volevo dirvi velocemente che domani in occasione del Wii U Direct, che sarebbe appunto un Nintendo Direct dedicato al Wii U, parleranno dei giochi del Wii U, spero che non faranno come hanno fatto l'altra volta il solito repirogo dei giochi e poi le cose serie che non sono state così tante, hanno dato date molto approssimative. Quindi è tutto qua, ci vediamo domani alle 15 sul mio canale di Twitch, bye bye!